Benvenuti su Prophecy, io sono Andrea e oggi finalmente vi faccio vedere la mia postazione. Mentre scorreva l'intro ho anche cambiato ottica così che abbiate una visuale un po' più wide della postazione che oggi voglio proprio andare a mostrarvi. Vi farò vedere quali sono le periferiche che utilizzo, insomma qual è il backstage del setup che uso per fare questi video. Mi scuso solamente se la qualità audio non sarà perfetta ma il microfono per forza di cose è in una posizione diversa da quella abituale però essendo un video un po' diverso dal solito spero possiate perdonarmi. E vi ricordo anche di salvervi al canale se non l'aveste fatto perché arriveranno un sacco di video ancora prima di Natale veramente veramente fighi. Attivate anche la campanellina così vi arriverà direttamente la notifica. Insomma andiamo a vedere questa postazione. Iniziamo dalle periferiche e da quelle che preferisco in assoluto. Sono le cuffie e non so quanti di voi lo sapessero ma sì le ritengo davvero importanti e ne ho ben due paia. Le Sennheiser HD 598 SE e le Corsair Void Pro RGB Wireless. Il motivo per cui ho due paia di cuffie in realtà, un paio di cuffie e un headset, è proprio che mi serviva un paio di cuffie con microfono integrato. Queste poi sono wireless, sono leggerissime, si sentono anche discretamente e le sto utilizzando davvero davvero tantissimo per parlare su TeamSpeak ad esempio. Però il problema è che le Sennheiser HD 598 SE che hanno un nome lunghissimo hanno anche una qualità audio a dir poco eccezionale. Sono uno dei migliori acquisti che io abbia mai fatto fino ad oggi e veramente non riesco a staccarmene. Anche se il mio obiettivo è quello di rendere l'intera postazione wireless. Finché però non troverò delle degne sostitute a queste cuffie, le dovrò tenere qui e purtroppo hanno il cavo che per fortuna come vedete si può staccare. Il mouse è un Logitech G403 sempre wireless, indovinate un po' per quale motivo, però mi ci trovo davvero benissimo. Ce l'ho ormai da parecchio tempo, è anche un po' usurato ma non riesco a staccarmene. Il tracciamento è perfetto, la forma veramente sembra disegnata per la mia mano e è un mouse che consiglio assolutamente a tutti, piace molto anche a Kernan, quindi se lo doveste acquistare andrete veramente sul sicuro. E poi la tastiera, conoscete anche lei, l'avete già vista sul canale, ed è una Drevo Calibur che ha recentemente sostituito la mia Corsair K95 RGB Platinum. Il motivo è che questa è wireless, ovviamente la Corsair no, ed è anche una tastiera tankiless, quindi senza il tasterino numerico e devo dire che mi ci sto trovando davvero bene. È comunque una tastiera meccanica comodissima per scrivere, quindi vi consiglio anche questa se voleste passare ad una tastiera wireless meccanica, anche perché è una delle poche presenti sul mercato. Il monitor è un Aussie da 23 pollici full HD, qualcuno si ricorderà che ne avevo due identici affiancati, ma ne ho lasciato solo uno al momento perché la nuova scrivania è un po' più corta e perché volevo utilizzare questo fantastico stand della Sharkoon che state vedendo in questo momento più nel dettaglio e col quale mi sto trovando davvero bene, perché ha anche un hub USB integrato con ben quattro porte che sono una manna dal cielo. E poi perché l'anno prossimo voglio fare un upgrade del mio monitor passando a un modello decisamente di fascia più alta, quindi per adesso sto utilizzando solo questo o l'altro, lo posizionerò sull'altra scrivania che vedrete a breve, perché poi ci saranno anche dei cambiamenti per quanto riguarda la TestBench e il mio personale computer. E poi la TestBench, ormai la conoscete a memoria, non vi elenco neanche più i componenti che vi sono montati, ma che trovate comunque sempre nella descrizione. E tra l'altro c'è una novità, quella TestBench presto, non prestissimo ma presto, non sarà più lì su quella scrivania, verrà spostata molto probabilmente perché lì ci sarà qualcosa di nuovo, probabilmente il mio nuovo PC, di cui ancora non vi spoilerò nulla ma lo vedrete, lo vedrete sul canale. E poi vedremo anche dove andrò a mettere la TestBench fra pochissimo. La scrivania è una malm di Ikea in colorazione marrone ovviamente e finalmente è una vera e propria scrivania da ufficio. Non ne potevo più di tavoli con gambe abbinate, questo è tutto un altro mondo, è molto più solida e più spessa. E poi c'è un ripiano dedicato per il cable management che ho realizzato in modo molto semplice, senza andare a nascondere con precisione assoluta tutti quanti i cavi perché ho bisogno che siano facilmente raggiungibili ogni volta che smonto un PC, ne monto un altro sulla scrivania, faccio qualche test, vado a provare qualche componente. Insomma, non posso permettermi il lusso di nascondere tutti i cavi alla perfezione perché devono essere di facile reperibilità. È arrivato il momento di alzarsi, di prendere la cam in mano e di farvi vedere anche un po' l'illuminazione che utilizzo per fare questi video. Come vedete, qui sopra ci sono dei faretti con delle lampadine colorate. Sono delle Xiaomi Yi Lite che possono essere controllate tramite Wi-Fi. Sono montate anche qui dentro, all'interno della lampada che vedete sempre nei video. Ed è possibile, come vi dicevo, controllarle tramite smartphone. Vi farò passare in questo momento delle clip in modo da farvi capire come le controllo. E ragazzi, mi ci trovo davvero, davvero benissimo. Non sono completamente perfette a livello software, qualche problemino ce l'hanno, ogni tanto, insomma, qualcuna si disconnette. Però devo dire, con un minimo di accortezza si riesce ad utilizzarle e l'effetto che danno è assolutamente eccezionale, secondo me. Tra l'altro, ragazzi, queste lampadine Yi Lite, insieme alla striscia LED che ho utilizzato sulla mia scrivania, sempre della Xiaomi, si trovano su Banggood ad un prezzo veramente vantaggioso. E in descrizione troverete anche un codice sconto che potete utilizzare proprio su quel sito. Ho acquistato io stesso su Banggood, quindi andate tranquilli, io mi sono trovato davvero molto bene. Da quest'altra parte, invece, sul soffitto abbiamo altri sei faretti bianchi, però, che utilizzo come illuminazione, diciamo, più standard. Accompagnati, ovviamente, dai softbox che non possono mancare mai, li vedete anche da quest'altra parte. E di qua, eccolo qui, c'è il setup che utilizzo appunto per fare video. Questa è l'asta microfonica che regge il Videomic Pro, che è il microfono che sto utilizzando ultimamente e col quale mi sto trovando davvero davvero bene. E qui c'è il cavalletto, lo vedete? E questo è praticamente il dietro le quinte di quello che vedete voi solitamente nei video. Ovviamente cambio ottica, ho un'ottica molto più luminosa che utilizzo per riprendermi solitamente, poi la vedrete sicuramente nell'altro. Però, in sostanza, questo qua è il setup che utilizzo per registrare. Da questa parte, sulla sinistra, c'è l'altra scrivania sulla quale monto i PC e che utilizzo un po' come banco da lavoro, ma sulla quale voglio muovere la testbench. Voglio spostarla da lì, da quella scrivania, perché ci andrà un nuovo PC, come vi ho già detto, e voglio metterla di qua e trasformare questo nel setup da test. E insomma, questo è il risultato finale del setup che avete visto. Quest'ottica ovviamente è tutta un'altra cosa, sono ripassato a quella che utilizzo per registrare video, molto più luminosa, cioè molto più sfocato sullo sfondo che vi piace tanto. Però è così che registro tutto quanto e questa è la mia postazione. Sono proprio curioso di sapere che cosa ne pensate. So che c'è ancora molto da migliorare, ma rispetto al setup passato, alla postazione passata, questa mi piace davvero di più e sono soddisfatto del risultato. Insomma, fatemi sapere nei commenti se aveste qualsiasi consiglio, lasciate un bel like a questo video se vi fosse piaciuto, e vi ricordo che tutti i prodotti di cui ho parlato saranno elencati in descrizione. Da Andrea è tutto, iscrivetevi al canale se non l'aveste ancora fatto, e passate anche sui nostri social che trovate sempre giù nella descrizione. Ci vediamo al prossimo video, bella!